Buongiorno a tutti, dopo l'incredibile serata di ieri sera Hai visto mamma che scarichi abbiamo? Faccio la polizia Brava Ci hanno appena fermato Ci troviamo alle 9 di mattina Ancora mezzo addormentati Dato che fino alle 2 abbiamo fatto del casino in macchina Con questa vista qua Grazie a tutti Uno stile così non ce l'avevo dall'ultimo diciottesimo qui Conferenz Rougie Arrivo Porsche 718 300 cavalli Trazione posteriore Posteriore In una località molto speciale Che è quella di Monte Carlo Che fiata Oddio Oddio Sera Non sei serio Meglio che torni verso Perché se no si continua così Inizio o a fare i traversi O a iniziare a fare la macchina No vabbè mi sono ingarellato con un MG di qua dietro Che figata Che figata Come potete vedere la macchina fa anche molto molto Non lo so Cioè quella lì che sta salendo sulla macchina E il suo ragazzo che non è italiano Mi ha chiesto se poteva salire sulla macchina La sua ragazza perché voleva farsi una foto con quella Ci sta ci sta Che figata Che figata Qua c'è la polizia Quindi mettiamo in D Facciamo del silence Ciao 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 Io ho il mio wallet Nel hotel Io ho il wallet In il fermo Sì Sì e quindi l'hanno sequestrata, io adesso sto andando a piedi, guardate quanta polizia che c'è, letteralmente circondati, per ora come andiamo con questa nera qua, questa blu qua, niente, non si è riusciti a prenderla, dovremmo andare in giro con questa adesso, mi dispiace, niente caprico. Dove c'era la parte Lugini, che era già quella destinata al futuro vincitore, se non che abbiamo in mezzo a tutti quattro noi, un signore, che è quello lì, ti puoi alzare i piedi. È giunto il momento di riandare a rimpossessarci della nostra Porsche con un altro gioiellino a sto giro, AMG GT S. 510 cavalli, andiamo piano però, se non ci fermano. Adesso abbiamo imparato la lezione. Ci hanno sequestrato una bianca, la Porsche, il 718, e adesso lo stiamo andando a riprendere con una AMG GT S da 510 cavalli, tipo... Sono in estasi. La 695 è dietro di noi, perché il proprietario della AMG GT ha detto che voleva provare il 695, così abbiamo fatto uno scambio. Facciamo passare le persone. Abbiamo appena fatto il testing della AMG GT S. È davvero impressionante. Adesso siamo dove c'era la polizia, quindi dove eravamo ieri, perché siamo venuti a ritirare di nuovo la nostra macchina. Allora, lì, con le quattro frecce, vedete per terra polizia, c'è la 695 V posto, il cui proprietario della AMG GT S mi ha detto che devi assolutamente farmela provare. Per cui, se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuta la 718, poi magari vi racconterò in un video futuro come va a finire la storia della Porsche, perché ancora non la siamo andati a riprendere. Ringraziate soprattutto Ruggi, che si è dato la disponibilità della macchina e che non se la vedrà ritornare a casa, perché l'andranno a prendere loro molto probabilmente. Quindi in qualche modo glielo dirò e soprattutto, dato che a questo punto dobbiamo compensare quello che ho combinato, aiutatemi e andate a seguire tutti la pagina in descrizione, link in bio. Seguite la pagina Instagram di Ruggi, sarà importante. Ciao a tutti, mi raccomando, mettete mi piace, condividete e ditemi la vostra, ovviamente, commenti con un senso. Ciao a tutti! Ciao a tutti!